Masvic Masvic sta per Master in sviluppo creativo e gestione delle attività culturali. È un master di primo livello che Ca' Foscari ha progettato e sviluppa con Scuola Olden di Torino. La didattica si svolge in parte a Venezia, in realtà per quasi tutto il periodo che va da dicembre a luglio e in una settimana molto intensiva a Torino. Le nostre lezioni si fanno il venerdì a tempo pieno e il sabato mattina. Molto spesso chiediamo ai nostri corsisti di partecipare anche ad attività il giovedì pomeriggio. Il giovedì pomeriggio è riservato a inviti a persone particolarmente importanti nel settore del quale stiamo parlando, gente che riesca a darci un quadro della loro professionalità, della loro esperienza. In altri termini servono per rappresentare ai nostri giovani quello che potrebbero essere di lì a qualche anno. Il nostro master è curato da dieci persone. Cinque sono professionisti di Scuola Olden e cinque sono colleghi di Ca' Foscari. Pensate che il corso non si conclude con degli esami, si conclude con un live project, con un progetto dal vivo. Vivo significa andare in una situazione reale e trasformare quello che altrimenti sarebbe semplicemente un esame di fine corso in un vero e proprio rapporto professionale. L'ambizione di un master come il Masvic non è soltanto quella di erogare corsi per quanto interessanti, ricchi di esperienze e così via, ma è quello proprio di fornire un'esperienza, come dire, trasformativa per chi viene a farla. Arrivederci a Venezia. Grazie a Venezia.